Ciao a tutti ragazzoli e bentornati, bentornati anche oggi in un nuovo video, oggi qui con un unboxing da come potete vedere Temu e niente ho aspettato tutto il giorno per aprire questo pacchettino, andiamo subito a vedere cosa c'è dentro, un po' mi preoccupa perché vi svelo che dovrebbe esserci anche un cappello di quelli eleganti avete presente quelli rigidi, rigido qua dentro ho paura che sia devastato ma andiamo subito a controllare cercherò di fare un video un po' più corto, ormai quando prendo da Temu vi faccio sempre vedere un po' le cose che prendo anche perché molte delle cose che ho preso sono state oggetti veramente interessanti a dei prezzi veramente top come detto su Temu ragazzi potete trovare per la maggior parte un sacco di cose, magari utili però cose stupide ovviamente di bassa qualità ma su determinati oggetti secondo me ne vale più la pena spenderli qua che magari andare a spendere 40 euro magari su Amazon e tante volte gli oggetti sono gli stessi solo che fanno dropshipping per oggetti come magari cover o simili che sono comunque ottime, belle potete cambiarle quante volete con lo stesso prezzo ne comprate 10 al posto di comprarne una magari si la qualità cambia ma su determinati prodotti ne vale veramente la pena spendere così tanto a volte si paga solo il marchio andiamo subito a vedere allora cosa comprende il pacco allora qua tiriamo fuori intanto iniziamo dal cappello così vediamo in che condizioni si trova allora sembra... ah c'è dentro anche una plastica per renderlo rigide allora l'ho visto, allora già un po' schiacciato boh 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 ragazzi puzza di plastica in un modo allora tanto tiriamo via la plastica dentro che l'ha protetto cioè guardate com'è distrutta anche il cappello non è dei migliori ho già un cappello così ma la differenza di questo è che era in realtà bombato infatti invece è arrivato bello schiacciato possibile dargli una forma sì magari stirandolo con un ferro da stiro si può vedere però come vedete qua ha qualche schiacciatura immaginavo avevo già l'ansia di questa cosa per il tipo di cappello mi piaceva un sacco questo dettaglio poi nero sul nero vediamo se mi va bene direi preciso sicuramente per fare qualche foto può venire interessante perché no quest'estate vestito così magari in spiaggia sotto il sole ci può stare ora passiamo a questa che è semplicemente una cover per il nuovo DJI Osmo Action 4 e anche il moschettoncino nulla di che ma ovviamente non for climbing di solito dovrebbero scriverlo eccola qua semplice semplice fatemi all'aprire anche questo va bene abbastanza sbilenca però alla fine è solo per andare in giro oh dentro è tipo vellutino ragazzi bellissimo appunto la mia nuova Action 4 fatemi vedere sicuramente con il frame non ci entrerà invece ci entra anche col frame ragazzi perfetta precisa così quando la butto nello zaino rischio che magari se prende una botta c'è qualcosa in qualche tasca dello zaino si possa andare a rompere lo schermino davanti dietro o addirittura l'obiettivo questo è veramente veramente top comunque vi ricordo che vi lascio i vari link dei prodotti qua sotto andiamo subito a vedere oh oddio questo ho detto vabbè intanto che ci siamo costava meno di un euro adesso vi faccio vedere li vedete? li vedete? e dovrebbero essere adesivi qua dietro se si va a tirarvi a pellicola sono da mettere nelle scarpe li ho trovati per puro caso guardando ho detto che cazzo sono? ho letto sotto e sono una specie di soletta questa va sotto il tallone e questa invece va dietro il tallone in poche parole dentro alla scarpa serve quando magari la scarpa è troppo larga è successo un paio di volte che un brand mi avesse mandato delle scarpe per essere pubblicizzato sui vari social sono leggermente più grosse del mio numero di poco ovviamente se metti un paio di calzettoni di quelli pesanti non ballano però magari in estate che metto le calze che sono più leggere è fastidioso no? quel senso di troppo spazio che rimane magari nella scarpa troppo larga ecco questo è per risolvere il problema dovrebbe dare un po' di spessore sia dietro nel tallone che sotto al tallone quindi anche alzandosi il piede va a toccare ovviamente la parte sopra dove ci sono le stringhe in modo da poter essere più stretto e non dare più questo problema questi sicuramente devo ancora provarli ma sono certo che funzionino ovviamente su scarpe di mezzo numero più grosso forse anche un numerino più grosso però lì magari con un paio di calze spesse tac! altro prodottino anche questo costava niente e ho detto why not? prendiamolo allora questa è la cover del mio telefono che ora non è su perché ce l'ho collegato al DJI e lo uso come schermo e solitamente io ho questo cordino che è molto comodo che anche sì il cordino è della DJI quando sono in giro per strada lo tengo così si sa mai che mi scivola che sono in metro o su un autobus e magari mi ci sbattono contro e mi cade che qualcuno cerca di scippartolo quando sono in treno magari riposo occhi chiusi tengo il telefono così però tengo anche questo nel polso fidatevi che fa differenza se qualcuno prova a sfilarvelo ovviamente se tira uno strattone si può anche strappare ma tempo che uno lo fa gli tira un cartellone sul mosso e te lo riprendi però lasciando queste violenze da non fare ma sono in casi estremi comodo però tante volte io appunto devo tirar via la cover perché quando faccio anche dei video questo coso sbatte fa rumore quindi ho trovato questa roba semplice semplice che è carino l'avevo già visto altre volte in poche parole vabbè questo pezzettino di plastica con questo cosino va messo dentro qua infilato qui così facendo uscire il robino sotto quindi rimane ovviamente incastrato qua nella cover una volta che ci mettete il telefono sopra rimane lì saldo e potete andarci a collegare direttamente questo moschettoncino con la molla quindi volendo questo te lo attacchi anche ai pantaloni e se ce l'hai in tasca magari sei a una festa se c'hai i pantaloni di una tuta e quindi perdi spesso il telefono però te lo attacchi da qualche parte te lo attacchi a un braccialetto te lo attacchi alla vita da qualche parte in modo che comunque rimane tu saldo volendo puoi andare a rimuovere questo cosino avere questo e collegarci qualsiasi altra cosa tu voglia anche un peluche se vuoi avere non lo so una cazzata attaccata al telefono anche questo sicuramente approved ma ora ci sono ancora queste due cose andiamo via il pacchettone e andiamo ad aprire uno non mi ricordo totalmente cosa sia una scatola ok apriamo 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 questa altra stupidata visto che era in vena di cappelli come se già non avesse abbastanza sarà sicuramente ridicolo sì lo userò per fare delle foto sì lo userò per andare in giro why not figa ma è spessissimo raga guardate qua che figa non lo so mi ispirava ho già un altro cappello tipo con le orecchie di topolino che è un cappello per bambini che però ho usato qua c'era queste due orecchiette fatte così qua pure l'orecchino e a parte che adesso non lo so se si debba piegare per metterlo in testa quindi lasciarlo tipo forse così è larghissimo ma dentro visto adesso che ci sono questi cordini per andarlo a stringere sembra un idiota sì ve ne sbatto sì ci farò un sacco di belle foto sicuro ci andrò anche in giro ok ma sapete che non mi dispiace per niente è un sacco fighissimo ragazzi sicuramente per qualche festo altro top e qua ho visto che c'è anche il marchio quindi se lo so tira tutto giù io fratello ma oltre alle cazzate è veramente veramente spesso cioè è materiale cioè lo vedete che spesso spesso cioè non è una roba leggerina schifosina top ci sta assolutamente pentakill ice unstoppable godlike legends never die perfetto cappello per me ragazzi ma ora apriamo quest'ultimo pacchettino che non ricordo neanche cosa sia bella sì ora ricordo questo mi torna molto utile un treppiede piccolino per telefono ma che si allunga e visto che molte volte faccio comunque le live su tiktok ho tanti treppiedini piccoli ma sono proprio piccoli quindi il telefono rimane questa altezza e di solito uso un'altra roba questo non so se andrò a risolvere il problema penso di sì costava veramente pofo troviamo qua roba per metterci il telefono questo sì raga questa cosa qua sopra è materiale proprio merdosissimo si spaccherà in tempo zero se a vito stretto già sono sicuro che parta ok qui va messo il telefono quindi deve essere in orizzontale ma so di mettere in verticale qua si apre vabbè questo si va a stringere per fermarlo questo si apre sì non è alto neanche questo ma la peculiarità era ok sono durissimi è fatto proprio malissimo ragazzi ve lo dico è proprio stampato male non riesco neanche ad aprire l'ultimo perché è incastrato ok ho dovuto usare le maniere forti sì molto sgangherato come roba però rimane rimane molto più alto e questo mi può tornare sicuramente utile per fare delle più alte peccato che questi non possono essere o si apre tutto e quindi va a perdere anche di altezza perché se viene messo così questo non è molto approvato mi tornerà utile perché sono pieno di cavalletti mi servono sempre cavallettini sicuramente ci potrò fare delle live qui ci metterò un altro attacco perché per mettere il telefono ovviamente in verticale non in orizzontale ma il fatto che non si possa aprire anche così in modo che rimanga molto più alto questo è veramente una pecca materiali per niente top plasticosi fatti male qua uguale se i cosi vanno giù semplicemente perché si incastra questo tra tutti penso sia il peggior oggetto che ho preso costava 2 euro 3 euro forse o meno non mi ricordo comunque ragazzi spero che il video vi sia stato utile abbiamo trovato cose carini sicuramente cose per i talloni il rubino ovviamente che mi serviva per la nuova Osmo Action 4 top il cappellino questo è fighissimo l'altro è bello se riesco a sistemarlo e impio il rubino per tenere il telefono e anche questo non è male spero che vi sia piaciuto magari vi ha fatto scoprire cose nuove avete visto anche la qualità lasciate like commentini qui sotto date un'occhiata ai vari link e seguitemi anche su instagram su tiptock e su tutte le altre piattaforme che dire ragazzi nient'altro bella grazie a tutti grazie a tutti